Ah, buongiorno signora Maria. Giorno. Che peso la spesa con queste scarpe. Non avevo più Saronno, sì sicuro. I miei bambini li divorano questi pasticcini. Che birbe. Per fortuna che non costano tanto. Anche mio marito ne va matto. Veramente anch'io. Quanti ne vuoi? Due. Saronno, il pasticcino quotidiano, dalla Zaroni. Grazie.